Tu hai avuto l'incidente, giusto? Sì, il 14 luglio. Stiamo parlando di 5 mesi fa, 5 mesi e mezzo fa. Quando uno pensa ad un incidente di questo genere, si immagina che ci voglia un tempo enorme per reagire. Invece Martina mi hanno detto che è l'esempio della resilienza, è l'esempio della capacità di affrontare. Ci racconti chi sei? Allora, io sono una ragazza, normalissima. Certo. Solo con una gamba bionica in più. Vabbè. Io sento spesso dire che la diversità, la diseguaglianza, finirà quando smettiamo di percepire la differenza che c'è tra una persona normale e una disabile o semplicemente diversa. Io invece credo che la differenza, la nostra diversità non vada... non dÈve che la dimensione, l'espl